Un confronto interistituzionale che ha coinvolto, come era doveroso, le scuole del territorio trabanese. Nell'aula magna dell'Università di Trabani stamattina si è discusso di nuove droghe, soprattutto dell'abuso di crack che sta riguardando, ormai da troppo tempo, sempre più giovani e sempre più minorenni. Le operazioni di polizia sono quotidiane, ogni giorno. Possiamo documentare interventi giorno per giorno di arresti, sequestri, denunce alla tutela giudiziaria, di spacciatori più o meno organizzati. Però il fenomeno non si arresta e quindi questo ci fa pensare che va fatto qualcosa in più. Abbiamo pensato di farlo oggi, coinvolgendo tutte le istituzioni, l'ASP, la prefettura, l'ufficio scolastico provinciale, l'università, tutti coloro che possono dare informazioni utili ai giovani su quella che è la realtà, l'effettiva realtà. Le droghe equivalono a veleno, equivalono a morte. E quindi i giovani, facendo tutto i stupevocenti, compromettono il loro benessere, ma compromettono il loro futuro. Questo oggi noi cercheremo di dirglielo a chiare lettere, ritenendo che se l'informazione veicolata in maniera corretta raggiunge la loro intelligenza e i loro elementi, questi incontri di oggi possono essere altamente positivi. Al tavolo dei relatori si sono alternati magistrati, medici, funzionari prefettizi e delle forze dell'ordine. Un'allarme sociale, quello lanciato con dati e numeri drammatici, che deve portare ad una maggiore consapevolezza dei giovani e delle loro famiglie. Sono emersi dei dati che ci hanno fatto riflettere la frequenza irregolare in alcune scuole e in alcuni quartieri, la dispersione scolastica, l'uso di sostanze stupefacenti e non solo in fasce sempre più basse della popolazione scolastica, ma anche in fasce di età che non pensavamo, cioè 35-40 anni. Questi incontri servono per arrivare ai ragazzi? Probabilmente sì, sicuramente per scuoterli. E tramite loro, anche in ragione di ciò che siamo, noi svolgiamo un ruolo, ma siamo a nostra volta genitori, cerchiamo di arrivare appunto alle famiglie e a coinvolgerle attraverso le scuole in particolare in un percorso di responsabilizzazione, di rafforzamento, non sempre questi ragazzi hanno dietro delle famiglie. E' una sfida importante, è una crescita culturale. In primo luogo devono diventare padroni di se stessi e cogliere anche da questo incontro un'opportunità, quella di capire da che parte stare. Ho visto che siete seduti in prima fila, il sindaco di Trapena e la sindaca di Erice, ma voi siete, immagino, consapevoli del fatto che questo territorio è davvero vittima del crack? Sì, abbondantemente purtroppo. Abbiamo avviato anche come distretto un'azione, come distretto intendo tutti i comuni dell'agro ericino, compreso Legati, un'azione di coinvolgimento del sistema e degli operatori territoriali, tanto le scuole, addirittura ci stanno anche Aspe, Prefettura, per cercare di condividere un percorso, una strategia. Perché una cosa è la repressione, una cosa sono le sentenze, ma per altri versi noi dobbiamo cercare alleati. E alleati dobbiamo cercarli, ci vediamo in giro, nelle famiglie, e dobbiamo cercarli anche tra i ragazzi. Io mi rifiuto di credere che tutti i ragazzi, le ragazze di Trapena e di Erice, siano complici del sistema criminale che ci sta dietro lo spaccio. E dunque, se ci arriva qualche notizia, qualche informazione, troviamo anche un modo per coinvolgere questi ragazzi, queste ragazze, non a fare gli infami, abbiamo questa cultura un po' datata, arretrata. Ma ad aiutarli a salvare vite. Bravissima, ma ad essere protagonisti, io penso che un pezzo di vittoria noi la vinceremo, perché arriverà l'intervento delle forze dell'ordine, arriverà quella della giustizia, ma arriverà forse troppo tardi.